La Santa Cresima è quel sacramento con il quale riceviamo il sigillo dello Spirito Santo e conferma il nostro impegno di cristiani iniziato con il battesimo. In Sicilia ti fa la Cresima picchietta a maretare. Battesimo e comunione fanno parte di quel momento della vita dove hai quell'età che non puoi decidere della tua esistenza. È canonico. Invece la Cresima è tipo l'università, che non è obbligatoria ma facoltativa. Però se ti vuoi laureare, devi studiare. Se da ragazzino la durata del corso della Cresima di tre anni ti sembravano gioppi, allora dovevi furbamente aspettare di diventare adulto e prendertela prima di sposarti. Praticamente diventa un'università telematica che paghi e in due mesi diventi medico di base. Amici miei hanno fatto il corso di Cresima di tre anni perché così non dovevano perdere tempo prima del matrimonio. Convinti di sposarsi e ancora a 40 anni dividono l'età a caissello con i fratelli. Si sono presi la Cresima a matula. Sì, perché alcuni non la vivono come un sacramento che fa parte della chiesa. Ma semplicemente un pretesto per accucchiare quattro soldi, scruccona. Quelli che si fanno la Cresima subito dopo la comunione sfiorano la strada sacerdotale. Tre anni di corso di Cresima. Praticamente si sono presi una specialistica. Un amico mio addirittura è stato bocciato alla fine del corso che non ho mai capito come ci sia riuscito. Quindi le cose sono due. O non c'è andato o all'esame finale ha imprecato. La cosa assurda è che tra i doni che si ricevono per la Cresima c'è la sapienza e l'intelletto. Probabilmente quando gliel'hanno mandati dall'alto non c'era campo e non prendeva. Ovviamente noi in Sicilia dobbiamo festeggiare ogni cosa. Conosco gente che ha fatto la festa per l'anniversario da Atmax. Figuratevi se non dobbiamo festeggiare la Cresima. Ogni momento è buono per spendere soldi. Sì perché noi non facciamo mai le cose in piccolo. No, dobbiamo affittare la sala di ricevimenti Villa Elisabetta d'Aragona. 140 euro a persona. Catering che cracco in confronto a un lavapiatti. DJ con un'acustica che va scorrossi allo stadio cammina cu canta tu. Poi parli col padre di chi si è presa la Cresima e ti dice se ne sono andati troppi soldi. Tra i doni della Cresima riceviamo anche il consiglio. Mi sa che quello tuo arrivo da temo. I regali della Cresima sono ormai gli scarti degli altri sacramenti. Se al battesimo ti hanno regalato la collana d'oro e alla comunione l'orologio alla Cresima spuntano con pezzi di ferro falato. Per farti capire, ora baisa, ora la finire taggiala. Ma tu, nonostante hai ricevuto la pietà come altro dono della Cresima la mette di lato e aggiungi questa persona nel taccuino aspettando con ansia di essere invitato ad un prossimo suo evento così da poter ricambiare il gesto con un pacco di fascette ed espletare con un Tecca fatta a parure Adesso hanno pulito la figura del padrino Sì, perché la Cresima era importante anche se dovevi batteggiare un tuo nipote e se non ce l'avevi non potevi farlo tipo il concorso dove ti chiedono la laurea Però ho visto persone usare la nonna tipo prexanome Nonna, tu lo batteggi per chi ce la Cresima ma la marina ufficiale sono io La verità è che in Sicilia non ci prendiamo i sacramenti perché ci crediamo Ma perché si deve fare? Come far contenti i tuoi genitori per esserti laureato e poi rimanere con il foglio appeso nella cameretta senza lavoro o in questo caso senza matrimonio Non ci prendiamo i tuoi genitori per esserti laureato